Per troppi anni l'Italia ha abdicato a un ruolo invece naturale di paese leader nel Mediterraneo. Oggi possiamo riprenderci quel ruolo, non lo si riprende facendo la guerra, ma facendosi portatore di un'azione diplomatica con le Nazioni Unite, con la comunità internazionale, prima la diplomazia, poi l'intervento. Questa è la strada giusta.